Una vittoria sudata, sofferta sicuramente, importante perché ci vede andare avanti in questa competizione con lo stesso entusiasmo. È chiaro che bisogna ragionare sulle difficoltà, ma devo dire che questa è stata una vittoria sì sofferta, ma di squadra, di un gruppo di cui sono orgoglioso di allenare, ma non tanto per la prestazione di stasera, dove ci sono stati alcuni errori, soprattutto per come li vedo allenare ogni giorno, quindi sotto quel punto di vista sono veramente molto soddisfatto. Rimettere piedra a Marassi è stata per me un'emozione incredibile, perché dopo 20 anni ho ricalcato un campo dove in passato mi ha fatto vivere delle gioie e mi ha fatto capire quanto è importante giocare qui a Marassi. È chiaro che il dispiacere, le belle sensazioni comunque di una parte di pubblico, il dispiacere magari è di vederlo così vuoto. Ci auguriamo tutti quanti di riviverlo come in passato, pieno dei nostri spettatori, dei nostri tifosi, perché sappiamo quanto sono importanti e che spinta ci possono dare. Credo che questa Samp abbia molte armi, perché ha in giocatori offensivi delle qualità importanti e fondamentali. È chiaro che poi credo che bisogna migliorare l'aspetto della determinazione con cui si fanno determinate situazioni, poiché abbiamo avuto moltissime palle gol che non abbiamo sfruttate e tante altre non le abbiamo create per errori di scelta o per errori tecnici e questo aspetto sicuramente va migliorato. Ma come va migliorato anche tante situazioni di errori singoli che ci hanno portato a soffrire in questa partita, pur poi vedendoci vittoriosi alla fine, però sicuramente bisogna migliorare sotto alcuni aspetti, poiché lunedì giochiamo contro il Milan e certi errori non puoi ripeterli. Il sistema di gioco di partenza è il 4-2-3-1, però dopo sia quando magari si difende, sia quando magari si va a sviluppare, si va a occupare delle posizioni in base anche spesso e volentieri ai giocatori che scendono in inizialmente in campo e al sistema di gioco della squadra avversaria. Credo che Fabio meriti tutti questi elogi, poiché fare 100 gol con un club è un obiettivo non raggiungibile da parte di tutti quanti e se lui alla sua età ci riesce vuol dire che è un grande professionista. Oltre ad avere delle qualità, quello che lo differenzia dagli altri è che è un professionista al 100%, ma lo si vede anche durante gli allenamenti quotidiani.